Parla tifoso partenopeo. Oggi approfondiamo una delle novità più interessanti del mercato dei trasferimenti. Sì, parliamo di un possibile acquisto che potrebbe portare un tocco di esperienza e solidità alla nostra difesa. Il difensore tedesco, un nome che non ha bisogno di presentazioni, potrebbe essere in procinto di vestire la maglia azzurra del Napoli. Ma cosa significa davvero questo per il futuro del nostro club? In questo video analizzeremo nel dettaglio questo possibile accordo, le motivazioni alla base e l'impatto che Ammels potrebbe avere sulla nostra rosa. Quindi preparatevi, perché oggi abbiamo molto di cui parlare. Per capire perché il Napoli tiene d'occhio Mazz Ammels, bisogna guardare agli avvenimenti recenti. La sconfitta contro il Verona al Bente Godi è stata per tutti noi un vero shock. La prestazione difensiva lasciava molto a desiderare ed era chiaro che la nostra retroguardia aveva bisogno di un intervento urgente. E quando parliamo di intervento non parliamo di un giocatore qualsiasi, ma di qualcuno che può portare leadership, esperienza e, soprattutto, sicurezza. È qui che entra in gioco Ammels, con una brillante carriera che include periodi al Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Oltre ad essere un giocatore chiave nella squadra tedesca vincitrice della Coppa del Mondo 2014, Ammels è un difensore che sa cosa vuol dire giocare sotto pressione ad alto livello. La sua esperienza potrebbe essere proprio ciò di cui il Napoli ha bisogno per stabilizzare una difesa che finora ha mostrato segni di debolezza nei momenti cruciali. Ma cosa ha spinto il Napoli a prendere in considerazione Ammels? La risposta potrebbe risiedere nei recenti fallimenti difensivi. Antonio Conte, noto per le sue esigenze tattiche, deve aver notato che nella squadra attuale manca una voce esperta, qualcuno che possa organizzare la linea difensiva e guidare i giovani. Ammels, con la sua vasta esperienza, può essere quel leader in campo, qualcuno capace di trasmettere calma e fiducia nei momenti di pressione. C'è però da chiedersi, Ammels, a 35 anni, ha ancora le capacità fisiche per competere in un campionato impegnativo come la Serie A? La risposta non è semplice. Da un lato la tua esperienza è indiscutibile, ma dall'altro l'età porta con sé la sfida della resistenza fisica. Tuttavia, è importante ricordare che giocatori come Ammels non dipendono solo dalla forza fisica, ma da una lettura del gioco, un posizionamento e un'intelligenza tattica superiori, qualità che migliorano solo con il tempo. Ingaggiare Ammels non sarebbe solo un'aggiunta alla squadra, sarebbe una dichiarazione d'intenti del Napoli. Vorrebbe dire che la società è disposta a investire sull'esperienza per garantirsi stabilità. Inoltre, l'arrivo di un giocatore di questo calibro potrebbe avere un effetto a catena su tutta la squadra. Giovani talenti come Nathan e Amir Ramani, che sono in ascesa, potrebbero imparare immensamente dalla presenza di Ammels, acquisendo fiducia e affinando le proprie capacità sotto la sua guida. Resta però la domanda, come si inserirà Ammels nel sistema di gioco di Conte? La risposta sta nella sua versatilità. Sebbene sia un difensore centrale di professione, Ammels ha la capacità di giocare sia in una linea di quattro difensori che in una linea di tre, cosa che Conte usa spesso. La sua capacità di avviare azioni con passaggi lunghi e precisi, oltre alla sua abilità aerea, lo rendono una preziosa opzione tattica in diverse situazioni di gioco. Inoltre, il suo acquisto potrebbe liberare altri giocatori per ruoli più specifici. Ad esempio, Kim Min Jae, che è stato costantemente elogiato per la sua solidità la scorsa stagione, potrebbe concentrarsi maggiormente sui suoi ruoli naturali, senza la necessità di assumere un ruolo. Di leadership difensiva che potrebbe non essere ancora del tutto preparato a svolgere. Con Ammels al suo fianco, Kim potrebbe evolversi ancora di più, sapendo di avere qualcuno esperto a sostenerlo. Ma, come sempre, nel calcio, niente è così semplice. Assumere Ammels comporta non solo questioni tattiche e tecniche, ma anche sfide finanziarie. La realtà è che, nonostante sia in scadenza di contratto, Ammels è ancora un giocatore di fama internazionale e il suo stipendio dovrebbe rifletterlo. L'interesse di altri club italiani, come il Torino e anche il Bologna, dimostra che la competizione per la sua firma sarà guerrita. Il Bologna, ad esempio, ha già provato a ingaggiare il difensore, ma non è riuscito a raggiungere un accordo salariale. Allora, come potrebbe il Napoli competere finanziariamente? La chiave potrebbe risiedere in un contratto che offra non solo un buon stipendio, ma anche incentivi basati sulle prestazioni e sugli obiettivi raggiunti. Ammels è in una fase della sua carriera in cui la stabilità e la possibilità di competere ad alto livello possono essere importanti quanto l'aspetto finanziario. Se il Napoli riuscisse a presentare un progetto convincente, che includa la possibilità di giocare in Champions League e lottare per il titolo di Serie A, ciò potrebbe bastare per convincere il veterano difensore ad unirsi alla squadra. D'altra parte c'è il rischio che il Napoli possa essere superato finanziariamente da altri club. La verità è che, anche senza contratto, Ammels è un nome che attira l'interesse e i club con maggiore potenza finanziaria possono entrare in azione. In questo senso, la velocità dei negoziati può essere cruciale. Più il Napoli agirà velocemente, meno tempo avrà gli altri club per fare offerte concorrenti. Tifosi, siamo in un momento critico della stagione. La sconfitta contro il Verona è stata un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme sulla realtà. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa se vogliamo competere ad alto livello. Matt Ammels potrebbe essere il pezzo mancante. Un leader esperto che potrebbe portare la stabilità tanto necessaria al nostro team. Ma, come sempre, nulla è garantito fino alla firma del contratto. La regia ora è nelle mani del Napoli. Riusciremo a portare Ammels all'ombra del Vesuvio? La sua esperienza e la sua leadership saranno ciò di cui abbiamo bisogno per ritrovare la direzione e lottare per La vetta della Serie A E, cosa più importante, il club è disposto a fare ciò che è necessario per garantire questo acquisto. Queste sono le domande che restano nell'aria mentre aspettiamo i prossimi capitoli di questa telenovela di trasferimento. Per ora continueremo a seguire ogni fase delle trattative e a fornirvi tutti gli aggiornamenti in prima persona. Quindi, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video con altri tifosi appassionati del Napoli. Vogliamo sentire i tuoi pensieri nei commenti? Pensi che Ammels sarebbe una buona aggiunta alla squadra? E se non lui, chi vorreste vedere a rafforzare la nostra difesa? Lascia la tua opinione qui sotto. Forza Napoli sempre! Forza Napoli!